beato angelico il beato domenicano giovanni di fiesole è meglio conosciuto come beato angelico predicò con il pennello dipingendo moltissimi capolavori tra i quali la famosa annunciazione nato alla fine del 300 con il nome di guido a vicchio di mugello entrò con il fratello benedetto nel convento di fiesole operò a firenze in tutta la toscana a san pietro e nei palazzi vaticani su invito di eugenio iv morì a ravenna nel 1455 nel convento di santa maria sopra minerva dove tuttora sono conservate le sue spoglie giovanni paolo ii l'ha proclamato nel 1984 patrono universale degli artisti grazie a tutti